Ennesimo gravissimo incidente stradale sulla Statale 16 all'altezza di San Severo. Per cause ancora da accertare, due automobili, una Peugeot e una Ford Focus, che viaggiavano nelle corsie opposte, si sono scontrate frontalmente. Nel violentissimo impatto hanno perso la vita due cittadini nordafricani, di cui non sono state rese note le generalità, e ferite in modo grave altre quattro persone. Dal grobiglio di lamiere della Peugeot, i sanitari del 118 hanno estratto i corpi dei due extracomunitari, mentre due ambulanze hanno soccorso e trasportato i feriti in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stadale di San Severo per i rilievi. Il personale dell'ANAS ha bloccato temporaneamente il traffico sul tratto stradale per liberare le corsie dai detriti causati dallo scontro.